la tavola è giusto 10 centimetri sopra il livello dell'acqua calcolato giusto giusto per mangiare grandioso grandioso a mare chiaro sono dei grandi e c'è un bel bagnetto cirù dove hai preso sta per i rinchi? la signorella ci vado ci vado di torino sarebbe così impara un po' a napoli ma è grandiosa io gli ho fatto i complimenti grazie a tutti